ciao a tutti ragazzi bene iniziamo alla grandissima bentornati qui sul mio canale che tu vi parla è simulare un 2000 e penso che avete già sentito l'emozione la potenza di Alessandro per questo incredibile pre partita noi non sentite no non sentono nulla per questo pre partita del derby di Milano che si terrà domani ragazzi alle 18 perché siccome lo stiamo registrando anche questo pre partita di venerdì insieme a quello di Napoli e Atalanta infatti ragazzi vi dico senta subito che noi stiamo registrando questo pre partita ancora prima di vedere i risultati del pre partita di Napoli e Atalanta che spero appunto speriamo che siano andati bene che sia appunto andato bene e quindi le docce ragazzi direi che possiamo iniziare con questo pre partita del derby di Inter Milan abbiamo già messo le formazioni moduli tutto il resto appresso però ovviamente ragazzi prima di iniziare vi invito come al studio a lasciare un bel like e iscrivetevi al canale un bel like e iscrivetevi al canale commentate commentate la campanellina tutto mi raccomando altrimenti Alessandro non vi da la vostra bevanda preferita mi raccomando e la spirit l'ha spritto la sprite come la pronunci tu eh no io la pronuncio colibaldi perfetto colibaldi ok ragazzi detto ciò direi che a questo punto noi possiamo iniziare e ci vediamo in partita andiamo veloce in città andiamo a tra poco ok ragazzi eccoci qui arrivati in partita e subito siamo pronti Alessandro già sta impazzendo dall'emozione sentitelo sentitelo bene siamo pronti vai 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 subito 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 vai 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 subito subito qua e poi la passiamo a quello che superi per mega velocissimo bene bene stai impazzendo guardano a chi si guardano guarda freccia russa ma calma l'arbitro ti ha detto calma l'arbitro è rimasto sorpreso proprio da lui ho detto calma calma ho dato una pallonata nella panza qualcuno qui in tribuna gridava già il gol il gol ma tu guarda un po' vabbè ho capito l'uomo della sua partita sarà Kimi sicuramente allora eee muraglia cinese anche ora con steri in palli ma cosa grazie pure qua giocatori corrotti guarda pure qua giocatori corrotti assurdo pure qua giocatori corrotti non è che l'ho fatto alzare sulle punte a questo l'ho fatto diventare più a guarda il palle più alto mi ha ucciso a quello vai teo bevi un po' di teo vai vabbè troppo forte a seguire eee uuuu vai uomo ruma uomo ruma guarda come si incazza uomo ruma guarda non è donna ruma lui uff uomo ruma vil gain e cioè l'uomo lo scienco vidal lo scienco vidal bravo qui a sbarcarsi nooo noooo nooo ibrahelm lo ho acquista del milan brahkem diaz vai può eee che brahkem wenn chiala chiala chialla chiala eppure con il vantaggio del fallo forza bravo andato samir questa milano di stamine lui ecco io non ci posso prendere cosa sta parlando di questo è proprio questo eppure questo eppure aspetta che ho finito vabbè va assurdo cosa ha parato quello proprio prima è il momento del ironia sbagliato col subito no non ti permettere calabria andiamo in calabria va vai 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 perché invece questo e vabbè va va guarda questo guarda vai teo vai teo guarda come si incazzi ragazzone guarda basta gliela vai ancora abraham mi rimane ciò che ho detto vai vai mi rimane ciò che ho detto pericisce no trovare nessuna parte ecco arturo e attenzione questa correndo pericisce 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 e macchier un muro è bello 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 è scivola 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 bravo bravissimo vai che sì che sì che no è bello questo spazio non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile non è guarda se messa a piangere addirittura si è messa a piangere ma cosa fai brava vabbè ci ritrova ma se che ti dico allora si dico ora pure questo non è parata non la parla però sa mi volevo che la parasse samir non nella difesa ancora epic brozzo forza picc brozzo avanti fatti forza perché ti lascio andare così ma non ti ero da che bravo muterà uomo ruma cosa mi conviene allora con calma forza è buono ma io proprio c'erano ci posso che sia questo gioco la roba coloro segnano tutti i giocatori che non vuole mettere in campo lui segnano tutti i giocatori che non vuole mettere in campo è assurda sta cosa forse lo fa apposta apposta fa sta cosa lo fa apposto guarda ma che cosa ha fatto poi ma che colla fortunosi proprio io non ci posso credere guarda ma è assurdo questo è stato fortunoso perché non si è capito proprio un cavolo vicino alla porta di ciò che è successo i difensori che abbiano anche commenti difensori proprio i difensori dormono guardano proprio dormono guardano praticamente segna così c'è assurdo proprio da quest'altra se lei ma per sforza bravissimo ehi brendone a luce ok questo proprio ancora per i cish è buona ma la prendete una di testa grazie forse oh no c'è zlatan avanti ibra forza dove usaci un po di cazzino un po del tuo corpo dai bravanti non poter niente con la mia potenza il per super tecnologica la manica forza i bravanti corri guardano questo ma la pure questa cosa e poi la pure questa da al centro campo si da centro campo perché riuscite così guarda me l'ha fatto ciò il portiere guarda prima magari facesse un uscito del genere alla parasse pure magari g no non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere a ciò che sto vedendo io la difesa proprio non lo so cosa succede l'ha fatto soltanto l'attacco il resto no comunque che parlo a fare lo che parlo a fare roba che sto vedendo io cosa assurde chissà se succedono pure le altre persone queste cose che vedo io che succedono soprattutto a me guarda a costo di prendere la palla fa le scivolate guarda guarda a costo di farsi sperare i giocatori guarda vabbè ibraimovic quasi quasi mi sta quel altro sta spaccando il controller ormai non so più che cosa dire vabbè ragazzi io vabbè 10 tiri a 7 più o meno vabbè e quindi detto ciò ragazzi questa volta la bibi te la vado a vedere sul serio e quindi ci vediamo tra poco nel secondo tempo ok ragazzi eccoci qui ha preso il possesso del video io ho bevuto la bibita vediamo se la bibita funziona la bibita funziona e come ci si vede come funziona ma perché non la prendono questi ma ma non lo so aveva quei miei giocatori proprio basta sono corrotti la passano solo le avversarie al sud c'è lui 5 di lì con lukaku un gol e 5 di con i primi non dice nessun gol giusto dai erics anche sei nuovo in campo ericsson sei pure fresco ericsson spero era fresca avanti se le makers carne fresca carne fresca forza no 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 ecco ibrami stranendo voi di sostituirti con leao non mi sarei mai aspettato di una cosa del genere ma mi sa che lo farò tra poco che non mi stai proprio piacendo in questa partita tu dovresti essere il trascinatore dovresti essere il trascinatore il trascinatore le mosse di karate uso le mosse di karate cosa questo si è mangiato mamma io a brozovici volte fa questi tiri proprio che assurdi brozovici perifiche qualcos'altro i primovic tutti con itch vai a chimiche si è un po forse sanco adesso corri corrotto forse ma che forse ma che forse ma che forse ma che forse che i primici proprio ma da quest'altro guarda forza che si ma che combini va bene ma che non riescono a fare una palla questi assurdo proprio corre 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 questo tizio calvo guarda va bene ma grazie basta io mi arrendo basta inutile non riesco a tenere palla io non lo so più non lo so non riescono a tenere una sola palla non ce la fanno a tenere la tengono la vostra un avversario la vengono e la versione avversario non c'è nulla da fare non c'è nulla da fare ebbene sì ragazzi avevo che il canto due video spoiler prima che si stacca dopo per sal situazioni penso che lo sanno ormai l'ho detto pure eh no 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 ti faccio spiegare zulatano a benia un assurdo cosa sto vedendo assurdo possono ripartire in contropiede ma come fai ma se mi facevo uscire questa palla fuori proprio guarda assurdo quest'altro che per prendere le palla a costi ma se spiegare i giocatori si fa pure le scivolate caglianoglu come l'ha chiamato caglianoglu ma siamo seri però quest'altro ormai io non tengo l'audio di fifa non so perché cioè io ho messo il fifa non me lo sarei ritrovato mai più ce la facciamo no neanche quest'altro che farà tutto ormai non so più cosa dire io non so più che fare non so più cosa dire non so più che pensare questa è la frase del video sarà non so più vedi che faccio partire il piano eh non faccio partire il piano forza ma vabbè ti ero forti se vede qua ci partire il piano forza le forze ce la puoi fare vabbè questo me l'ha me l'ha buttata me l'ha buttata a terra me l'ha ucciso vabbè guarda come l'ha lasciata la palla guarda come l'ha lasciata la palla non ce la fanno a prendere mezza palla vabbè io al milano russero mai più proprio ormai guarda no è assurdo proprio assurdo ragazzi io l'ho detto appena guarda se ci sta qualche diverso milanista che mi sta seguendo fidatevi che poi qua stiamo ancora sui momenti poi tornero sui 21 il milano sui momenti proprio cioè signori non è che fa cagare di più anche nello spero che non ci siano anche se io io voglio bene tipo si milanisti perché io comunque porto sportività per diciamo tutte le squadre porto sportività però soprattutto anche per il milan soprattutto per il milan porto grande sportività però veramente io parlo del videogioco come nel gioco in fifa 20 assurdo cioè veramente è una cosa assurda non tendono mezza palla e poi la fanno suggerire cioè la passano sempre gli avversari ma è assurdo questa cosa fatevi una visita oculistica per questo vedete cioè non riescono a tenere una palla ma è assurdo va bene a quest'altro mi fa 3 mila falli non so se fischi qualcosa no e tu c'è fischi e ammoni quando vi dal piano tu hai perso ma è assurdo ancora ma la finisci di farmi tutti sti falli no 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 finisco ma è assurdo ecco ora chissà che sostituzione ora chissà che sostituzione farà prima che prende il rosso cambiato cose assurde proprio che sto vedendo io per la sua sicurezza e vabbè tanto ormai siamo 65 esimo quindi che ci vorrebbe eh vabbè missione è bene farò eh partiti del piano è partita del piano è non parlo più guardo non parlo più partita al caro vuelto stop q testicolo o no è la fine o no è la fine beccate comunque ci sono ancora è solo che però siccome non sono vabbè la fai nooo maledetti francesi guardiamo la giocondo guardate ogni volta che la parla sembra un animale con le scivolate guardate è assurdo e poi la sua fortuna è che fa pure interventi puliti quello me l'ha ucciso vabbè ma cosa fai andonovic non so pure loro pure loro pure loro bene si forse la prende no 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 ci sto ci sto no 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 pure giallo comunque l'outro la f2 io non parlo più questo è stregata proprio è stregato un po' di sé come si chiama screenar milano appunto sicura l'attaccante ma poco per questo porto per il giocatore di cittadini di bb la porta si tanto non segni non segni non segno non sei quattro signori il milan ultimo 21 certamente c'entra dicendo c'è si vado e infatti sviluppa venti fa schifo parola questo video è questo video del clamoroso ma del clamoroso io ogni volta mi guarderò in loop le cose che dice simone quando ha sbagliato col tiro c'è allora dico io no guardate solo le statistiche di dimmi se questa è una partita stricata io ho fatto 13 tv tu ne fatti 15 due differenza 8 tiri importato 8 tiri importa io lasciando perdere ha fatto 3000 ha fatto sei falli praticamente io non solo vabbè io non parlo che fai tu l'altro soprattutto di cui l'ultima cosa dico l'ultima fase finale del clamoroso è l'emblema della partita palo e difensione che riesce a prendere in tempo io proprio allora facciamo faccio la fine va di odio è troppo nervosa ragazzi allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto di inter contro milan simone è totalmente contrario all'unione dei degli uccelli con i pinguini spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi attivate la campanellina lascia un mi piace un commento condividete i video con i nostri amici ciao ragazzi basta ciao 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 ciascuno oh 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 Grazie a tutti.